Amici di Begolino TV, buongiorno, ciao Luca, grazie per il mio augurio, ciao Luca, ma cosa saluti che stai facendo la sigla? Ah, sei in diretta? Begolino TV, buongiorno, c'è Begolino quello originale che è lui, e poi c'è la sigla Begolinosa, quello lì è il logo, praticamente il logo che ha fatto Mario, Begolino TV, un'esclusiva, oggi nel giorno del mio compleanno, non l'ha detto nessuno ancora, hai rotto i marroni tutta la mattina, non è vero, non è vero, tu sai che tu sei, allora, 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 Scusa, manca la colonna sonora, vai, vai, grande Casadei, grande Casadei, vai, vai, sei, sei, musica, è uno spettacolo, ringrazio tutti gli ascoltatori che hanno mandato, devo dire che è un giorno importante per te, ma anche per gli ascoltatori che ti conoscono, voglio dire, 49 anni di ricciolino, Pensavo di Green Bambi, no, ho detto a Ricciolino, voglio essere buono, non è vero, perché vedi che ho il capello ignorante, da domani ti torno a dare tu col pallotto, hai capito, oggi il tuo compleanno sei quasi intoccabile, ma è possibile avere una musica del genere? No, è la migliore, scusa, è la passionaria di Casadei questa, scusa, volevo mostrare, Begolino TV, cosa c'è, cosa vuoi far vedere? Guardate cosa mi ha regalato il mio compagno, no, no, adesso il mio compagno ha detto così, ma non è tanto bene, dai, per esempio, un Cannonau, conoscente di sedia, Cannonau riserva del 2002, cioè questo vino ha 14 anni, ecco, questo qua è di una bontà incredibile, grazie. Assolutamente, però tu non sai che con una siringa io ho messo qualcosa, va bene, a parte questo, noi stamattina abbiamo fatto il solito programma, il Sandrino Day, perché è il suo compleanno, però poi abbiamo anche affrontato alcune importanti questioni legate anche al referendum, bravo. No, tra l'altro anche domani avremo alle 9 e mezza il seggiologo, cioè colui che ci sa dare risposte sui dubbi degli italiani quando andranno al seggio, non vogliamo sì o no, non ce ne frega niente. Seggiologo, non sediologo, perché il sediologo è quello che è esperto delle sedi, il seggiologo è quello che... Lui in 20 anni ha fatto il presidente di seggio, quindi le cose ne sa, domani è alle 9 e mezza il seggio. Sai quanti soldi ha guadagnato? Hanno guadagnato una mazza. Ma non è vero, hanno un bonus, hanno qualche cosa... Ma cosa hai in mano? Tu spieghiamolo ai nostri teleaspettatori. Ecco, no, no, adesso questo oggetto abbastanza lungo che sembrerebbe in un primo momento, sembrerebbe un tubo. Un tubo. Ma in realtà non è un tubo, no, 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 questo è assolutamente un nuovo strumento per rilassarci. Cioè? E rilassarsi, e rilassarvi. Come funziona? No, 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 no. è come un matterello sulla pasta allora abbiamo scoperto begolino begolino che è quello che rilassa poi abbiamo scoperto che cosa che con la campana tibetana poi dopo tu gli giri intorno questo è sempre tibetano è un tubo che ho trovato per terra ecco questo tubo diventa il trombone tibetano mentre tu lo spieghi io lo suono scusa spesa che c'è la pubblicità abbiamo messo il canale youtube c'è la pubblicità che rompe eh vabbè ma quello avevamo dicono salta annuncio ok perfetto togliamo la musica la ballata del camionista vai ma perché devo fare tutto io sei tu la regista accendi il cilum cioè suona il trombone tibetano vai attenzione amici il suolo del trombone tibetano vai poi ci possono fare varie tonalità hai capito che può essere anche questo per rilassarsi è perfetto bravissimo bravissimo beh ragazzi chiudiamo così con il trombone tibetano suonato dal trombone emiliano vedete che c'è noi diamo appuntamento domani con Begolino TV mentre alle 6 domani mattina vi aspettiamo in diretta sulla Radio Bruna strada coppia Begolino